Luca Presini, calciatore che non ha giocato questa finale, purtroppo finale persa per 5-2, condotta fino al primo tempo, inizio secondo tempo per 2-1, poi che è successo? Poi loro hanno alzato il livello del gioco e noi non siamo riusciti a stare dietro, purtroppo è stato un secondo tempo gestito male, alla fine ci abbiamo provato in tutti i modi, però sono stati i più bravi di noi. È stato comunque un buon torneo perché è iniziato un po' così, con tante difficoltà al primo girone, poi bene nel secondo girone, secondo, la semifinale vinta, fino alla finale, ci riproverete l'anno prossimo? Sicuramente sì, ci credevamo in finale oggi, adesso, però invece non è andata male, ma l'anno prossimo sicuramente torneremo qui di nuovo per giocarci la finale. E secondo te che ingrediente manca per arrivare alzato il trofeo? Ma era un gruppo che è nato quest'estate, quindi abbiamo avuto tempo per ruotare la squadra e sicuramente saremo pronti per il prossimo impegno.